Nella giornata di sabato è continuato il tour del sindaco di Agropoli Adamo Coppola fra le vie della città per ascoltare le proposte e le problematiche dei commercianti in questo delicato periodo. In questo caso Coppola ha ascoltato i proprietari degli attività del centro cittadino, ho trovato disponibilità nel discutere dei problemi, dichiara il sindaco, ho ricevuto incoraggiamenti e anche critiche ma mi è piaciuto molto perché ognuno ha fatto delle proposte. C'è un clima positivo e la volontà di ragionare e di stare assieme. Dobbiamo mettere in campo un progetto serio per il centro cittadino. Deve ritornare il luogo principale in città. Alcune cose devono cambiare, stiamo ragionando come fare. Alcune delle proposte fatte al primo cittadino sono state l'abbiglimento e la pulizia di Piazzo Vittorio Veneto e del centro in generale, la filodiffusione al fine di creare un centro commerciale naturale ma anche la sospensione della ZTL e dei pagamenti per il parcheggio che potrebbero aiutare i commercianti. Il sindaco poi continua, c'è il fenomeno del distributore automatico H24 di bibite e cibo che è stato fatto presente da tutti durante il periodo del virus e diventato molto conosciuto, non a personale e a prezzi più bassi dei bar. Dobbiamo ragionare per elevare le presenze in piazza, conclude Adamo Coppola. Ho cominciato a pensare anche di mettere delle regole di qualità per i negozi del corso. Ovviamente si è parlato anche dell'occupazione del suolo pubblico.